In San Laurini, ultimo arrivato Vincenzo Laurini, in italiano, ultimo arrivato alla corte di Roberto D'Aversa, quindi della Fiorentina. Si può dire che sei un giocatore che ha fatto una gavetta? Sì, io sono partito da lontano perché comunque sono partito dall'eccellenza e piano piano sono arrivato in Serie A, quindi sono molto contento di essere arrivato qua a Parma, che comunque è una grande società, c'è una storia incredibile dietro, quindi darò il massimo e spero di far bene. Giocatori di questo genere, ricordo l'esempio inglese che l'anno scorso mi dicevo che ho fatto gol un po' in tutti i campionati, e vedendo che io ho fatto tanta gavetta, vuol dire che siete temprati, anche le durezze di quella che è la Serie A, un campionato dove tu comunque hai già più di 100 presenze. Sì, sicuramente fare le categorie inferiori ti forgia, devi per forza dare qualcosa in più, poi dopo se siamo riusciti comunque a salire e arrivare in Serie A vuol dire che abbiamo lavorato tanto e bisogna continuare così, quindi la Serie A è un campionato che conosco bene perché come hai detto sono 100 presenze, 5 campionati ricordo bene, quindi spero di far bene. Tra l'altro hai avuto, e la bravura e anche forse la fortuna di giocare sempre in squadra di un certo tipo, sia il Carpi, sia l'Empoli, poi l'ultima Fiorentina, comunque società di un certo tipo, che praticamente fanno anche un po' famiglia e quindi magari può diventare anche più facile per un ragazzo come te che pur avendo origini italiane veniva dalla Francia ti sei ambientato bene. Sì, ho sempre trovato squadre e gruppi comunque vincenti soprattutto perché comunque quando vinci i campionati, vinci tanto, dà entusiasmo, dà qualcosa in più e quindi mi sono sempre trovato bene, le squadre dove sono arrivato sono sempre state bravi gruppi a inserirmi bene, le città dove sono state sono state città che ho vissuto molto bene perché la gente era brava gente e sicuramente a Parma troverò altrettanto se non di più. Di te si è sempre detto che sai conciliare bene le due fasi perché a volte per un terzino magari può essere difficile reinventarsi, magari esterno offensivo o viceversa per uno che arriva davanti è difficile marcare. È vero che te la cavi bene in tutte e due le circostanze? Io ci provo, poi se riesco non giudico io, poi penso che un terzino la prima cosa deve pensare a difendere perché gioca dietro quindi il suo obiettivo principale è non far prendere gol alla sua squadra, poi se può dare qualcosa anche in avanti tanto meglio. Un anno fa eri stato accostato al Parma, se mesi fa sembravi un passo dal Parma e adesso sei al Parma, insomma la trattativa è un po' lunga. Sì, è vero che è un anno che se ne parla e io volevo venire, era il mio obiettivo e non se ne è fatto niente un anno fa, a gennaio sono stato molto vicino, poi alla fine abbiamo deciso di rimanere a Firenze, la Fiorentina non lo so, forse hanno trovato l'accordo, quindi sono rimasto a Firenze ma sono molto felice di essere arrivata adesso a giugno. Bogossian, Turam, Miku, Fre, insomma i giocatori francesi al Parma ne sono passati, adesso tocca a te. Sì, ne sono passati tanti, tanti campioni che hanno vinto anche tanto con il Parma e hanno fatto la storia di questa squadra. Io spero di poter fare anche un per cento di quel che hanno fatto loro e sarebbe già enorme. Oggi è il primissimo allenamento, però ieri in un'intervista hai detto che Firenze non l'avresti lasciata per aver arrivato questo triennale, ma immaginiamo che non ti abbia convinto solo il triennale, ti avrà convinto anche il bel progetto di Parma. Sì, ma era un'intervista fatta comunque un po' di tempo fa che non poteva essere rilasciata perché appunto dovevo firmare a Parma, quindi io ho detto, come ho detto su quell'intervista, ho detto che a fine campionato il mio obiettivo era arrivare a Firenze perché ancora il mercato non era iniziato, niente, poi ho avuto l'opportunità del Parma che è una grande opportunità per me e io darò il massimo per questa squadra.